Questa è la mia nuova invenzione! Una pillola che una volta ingerita vi farà ripetere la stessa cosa per le prossime sei ore! Ditemi, chi desidera provarla? Vuoi provare tu, Ciaccia? Complimenti, Ciaccia! Sei il prescelto! Ciaccia, dovresti contare i soldi dopo aver ingerito la pillola? Sarà così bello per te continuare a contare i soldi per sei ore! Ciaccia, dopo aver preso la pillola dovresti catturare un ladro! Così in sei ore li prenderesti tutti e aiuteresti la città! Oh, Matticia, cosa devo fare? Oh, Ciaccia, rilassati! Dai, puoi fare tutto ciò che ti rende felice! Oh, Ciaccia, ma che cosa hai fatto? Dopo aver preso la pillola hai singhiozzato! Ora continuerai a farlo per sei ore! Ho dimenticato di dirti una cosa! Se tocchi qualcuno, anche lui avrà il singhiozzo! Che disastro! Ehi, Ciaccia! Che cosa hai fatto? Mi hai passato il tuo singhiozzo! Ma perché? Non hai nient'altro? Danarci gratis? Oh, questi singhiozzi hanno rovinato tutto il mio meraviglioso trucco! Devo andare a ricevere il ministro oggi alla stazione! Deve tenere un discorso al municipio e... Come posso presentarmi così? Trovate subito un rimedio a questo disastro! Muovetevi subito! Non si preoccupi! Andrò io incontro al ministro a suo nome e lo porterò al municipio! L'ispettore Bandocchini dovrebbe essere già qui! Doveva venirmi a prendere! Che fine avrà fatto? Si è persa per strada? Cianco! Spero che tu abbia preparato bene il mio discorso! Devo fare bella figura! Ho preparato un discorso molto dosinghiero! Non si preoccupi! La gente di questa città è facile da ingannare e voterà solo ed esclusivamente per lei! Alla vittoria in pugno! Molto bene, molto bene! Fare discorsi è sempre stato il mio forte!